Buon pomeriggio dall'Ippodromo delle Capannelle, prima corsa premio Amazzoni per i due anni, sono in sei al via dopo il ritiro del numero due di Crudelia Stecca. Con l'uno c'è Chloe Doria Almer, Gabriele Quarnetti, il tre Carol Klemmer, Caetano Di Nardo per Gennaro Casillo, il quattro Claria Arisaia TRGF, Antonio Di Nardo sempre per Gennaro Casillo, il cinque Continental CR, Roberto Vecchione per Olga Rellert, il sei Carezza Bella Massimo Andreani, il sette Isabella Fermo, Enrico Bellei per Roberto Faticoni. Partono con cautela Carol Klemmer e anche Isabella Fermo all'esterno. Carezza Bella a largo, è veloce ma ora rinviene per linee interne Chloe Doria Almer, Quest'ultima si sistema alla corda, cosa che sta per fare anche Carezza Bella perché Chloe Doria Almer è riuscita a rientrare lungo la corda grazie al lancio in 3.19. Carezza Bella si accoda, muove subito invece la favorita Clara Risaglia TRGF che punta in avanti per ottenere il via libera da Chloe Doria Almer, cosa che avviene esattamente in 450 metri per la cavalla interpretata da Antonio Di Nardo, in quarta posizione segue Continental CR, più indietro Carol Klemmer e Isabella Fermo, vittime di incertezze. In bocco della seconda curva con la favorita Clara Risaglia TRGF e comanda su Chloe Doria Almer, Carezza Bella, Continental CR, poi Isabella Fermo e Carol Klemmer che cercano di ricucire il gap. Metà gara in 1.27 per la battistrada, si viaggia nell'ordine dell'1.18 appena abbondante, con Clara Risaglia TRGF seguita da vicino da Chloe Doria Almer, chilometro iniziale con ultima frazione in 14.5 e parziale di 1.17.4 per Clara Risaglia TRGF, davanti sempre a Chloe Doria Almer, Carezza Bella e Continental CR. 1.200 in 1.32.5 per Clara Risaglia TRGF, sulla quale accenna ad affacciarsi Chloe Doria Almer, poi Carezza Bella e Continental CR, 200 metri al traguardo con Clara Risaglia TRGF in vantaggio, Chloe Doria Almer che sposta al suo esterno, va all'attacco e in breve rimonta l'avversaria, Chloe Doria Almer passa di slancio su Clara Risaglia TRGF e va a vincere nei confronti dell'avversaria, con Carezza Bella al terzo posto. 1.4.6 l'arrivo ufficioso della prima di Capannella sul mio cronometro, 2.2.4 per l'allieva di Gabriele Quarneti, questa figlia di Daghera Pid, i colori sono sempre della scuderia Quarneti, 2.2.4, media di 1.16.5, ufficiosa naturalmente per Chloe Doria Almer che al terzo impegno della carriera ottiene la prima vittoria in bello stile ai danni della favorita Clara Risaglia TRGF con Carezza Bella al terzo posto, 1.4.6 l'arrivo ufficioso della prima di Capannella, linea allo studio.